...degli orfani in padre, quindi la sovventura, tutto lato con un altro problema, me lo risponde lui, lo sto ricordando, perché il minore a loro veniva tutelato moltissimo, anzi c'erano pure i parenti che cercavano di mettere la mano lunga sui patrimoni e quindi si faceva subito inventare la vedola, eccetera, si salvava la dote della vedola, che poi la vedola pureva e ha portato la sua dote, eccetera, eccetera, però i bambini, l'età pubblicare era tutelata moltissimo, a meno che il bambino non fosse già stato emancipato dal padre prima della morte, cioè in età prima della maggior età. Questo è sempre legato al patrimonio, quando c'è il patrimonio c'è anche questa maggiore attenzione, quando non c'è è molto più difficile questo momento.